The New Stories. La tua informazione libera. Insegnanti ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi le forze dell'ordine, i medici del 118 e i vigili del fuoco, come riportato da Milano Today. Con l'aiuto dei pompieri, i medici e gli infermieri sono riusciti a raggiungere l'uomo, che si trovava chiuso in bagno. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza che un malore possa essere stata la causa del decesso. La campanella per noi è importante. Resta sempre aggiornato.